Ladies and gentlemen, all the people you can shout out by the Casa Beneveschia del canal, back to the profit, if you like that, in a moment of democracy, it's like my fortune in my moto, I'll let you do it as you think. Ecco dove sono qui. Sto in mezzo a un taxi, sì in mezzo, sto sopra un taxi in posto che sta sulla moto, quindi Merode potete capire quanto. Allora, una cosa che mi sono dimenticato di puntualizzare ieri, molto molto importante, che se noi vogliamo far passare il messaggio che c'è, noi siamo dove siamo per il complotto contro Lazio, vuol dire che non vogliamo il bene della Lazio, ma siamo schiavi di una dialettica o di qualcuno, ok? O di qualcuno e questa cosa non va bene, perché poi ieri gente mi ha detto, eh no però, scusa eh, ma perdonami, ma con Verona e con la Salernitana ci hanno rubate. Allora ragazzi, Verona e Salernitana con tutto rispetto, sapete che io voglio bene i ragazzi dell'Ellas e anche l'affetto che provo per i ragazzi della Salernitana qui in New York, che mi sono sempre stati vicini, quando ho avuto problemi con l'incendio e con tutto, beh dire che abbiamo, ci hanno rubata Verona e Salernitana con tutto rispetto, una formazione che l'altrano arriva a seconda, deve fare 3 a 0 all'uno e 4 a 0 all'altro, dato che la Salernitana ha battuto solo noi, tipo, ha cambiato 12 allenatori, quindi sta cosa no perché ci hanno rubata, no perché da qua, no perché da là, a me ragazzi non mi piace, anzi, non mi piace per niente, perché non vuol dire voler fare il bene della nostra Lazio, perché se vogliamo fare il bene della nostra Lazio dobbiamo essere, dobbiamo essere completamente onesti con noi stessi e non fasse di le cazzate e essere convinti che le cazzate che ci dicono per motivi di pagamento di mutui siano la cosa vera, ok? Quindi fatela finita, tiriamo fuori le palle, ok? Non iniziamo a piangere, no, perché da qua pure voi, eh, me state a far culare, prega, occhio, occhio, per quanto riguarda domani si parte, si vola, il Live Motiv sarà onorati di essere lì, comunque vada, io parto domani da New York, Francoforte, poi Germania, poi Monaco, Brigata, amici, fratelli, Sarà una cosa bellissima abbracciarvi, ho visto gli appuntamenti che ha dato la Nord, sarò presente, non mancherò, cosa importantissima, sarete con me, soprattutto mamma, nonna, momi, dada, la gente che amo sarà con me in questo viaggio, questo, in questo nostro, dimostrare il nostro amore che va oltre il risultato, oltretutto, oltretutto, già, 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 forza, forza laziali, tutti uniti, so che ci saranno anche più persone di quelle che ci dovrebbero essere in quanto sprovviste di biglietti, lo voglio bene, dai ragazzi, dai non mollamo, perché ne mollamo, i lati strisciano, dai!